A Rossano Veneto il 10 giugno per il rinnovo del Consiglio Comunale e della poltrona da sindaco se la giocheranno in tre. Morena Martini, primo cittadino uscente, ci riprova con la civica Rossano 2023, Morena Martini sindaco. Paolo Agganassin, già assessore, silurato proprio da Martini, ci riprova invece con la lista Lega Agganassin sindaco. Nel duello al femminile si inserisce Gilberto Trevisan, un passato da sindaco sarà lui a guidare Progetto Rossano Trevisan. Contrevisan sindaco. A Marostica sarà invece sfida a quattro in pista l'ex senatore Dem Giorgio Santini, già presidente della commissione bilancio della Camera. Impegno per Marostica, lista civica, la sua compagine. Dovrà vedersela con il sindaco uscente commissariato nella scorsa legislatura, Marica Dallavalle, a sostenere l'ex primo cittadino, la civica Marostica+. Matteo Mozzo, candidato con una civica con la Lega, prova a inserirsi nella sfida. Dovrà vedersela anche con Maria Teresa Costa, ex assessore, Marostica sindaco Costa, il nome della sua lista.